Meneceo Mai sei troppo giovani o troppo vecchi per la conoscenza della felicità. A qualsiasi età è bello occuparsi del benessere dell'animo nostro. Chi sostiene che non è ancora giunto il momento di dedicarsi alla conoscenza di essa o che ormai è troppo tardi? E' come se andasse dicendo che non è ancora il momento di essere felice o che ormai è passata l'età. Ecco che da giovani come da vecchi è giusto che noi ci dedichiamo a conoscere la felicità per sentirci sempre giovani quando saremo avanti con gli anni in virtù del grato ricordo della felicità avuta in passato e da giovani io ero bustito in essa per prepararci a non temere l'avvenire. Cerchiamo di conoscere allora le cose che fanno la felicità perché quando essa c'è tutto abbiamo altrimenti tutto facciamo per possederla. Pratica e medita le cose che ti ho sempre raccomandato sono fondamentali per una vita felice. Prima di tutto considera l'essenza del divino materia eterna e felice come rettamente suggerisce la nozione di divinità che c'è in data. non attribuire alla divinità niente che sia diverso dal sempre vivente o contrario a tutto ciò che è felice vedi sempre in essa lo stato eterno congiunto alla felicità. Gli dei esistono, è evidente a tutti, ma non sono come crede la gente comune la quale è portata a tradire sempre la nozione innata che ne ha. Perciò non è il religioso che rifiuta la religione popolare ma colui che ai giudizi del popolo attribuisce la divinità. Tali giudizi, che non ascoltano le nozioni ancestrali e innate, sono opinioni false. A seconda di come si pensa che gli dei siano, possono venire da loro le più grandi sofferenze come i beni più splendidi. Ma noi sappiamo che essi sono perfettamente felici, riconoscono i loro simili e chi non è tale lo considerano estraneo. Poi abituati a pensare che la morte non costituisce nulla per noi, dal momento che il godere e il soffrire sono entrambi nel sentire, e la morte altro non è che la sua assenza. L'esatta coscienza che la morte non significa nulla per noi, rende godibile la mortalità della vita, senza l'inganno del tempo infinito che è indotto dal desiderio dell'immortalità. Non esiste nulla di terribile nella vita per chi davvero sappia che nulla c'è da temere nel non vivere più. Perciò è sciocco chi sostiene di aver paura della morte, non tanto perché il suo arrivo lo farà soffrire, ma in quanto l'affligge la sua continua attesa. Ciò che una volta presente non ci turba, stoltamente atteso, ci fa impazzire. La morte, il più atroce dunque di tutti i mali, non esiste per noi. Quando noi viviamo la morte non c'è, quando c'è lei non ci siamo noi. Non è nulla per i vivi, né per i morti. Per i vivi non c'è, i morti non sono più. Invece la gente ora fugge la morte come il peggior male, ora la invoca come requie ai mali che vive. Il vero saggio, come non gli dispiace vivere, così non teme di non vivere più. La vita per lui non è un male, né è un male non vivere. Come dei cibi scegli i migliori, non la quantità, così non il tempo più lungo si gode, ma il più dolce. Chi ammonisce poi i giovani a vivere bene e il vecchio a ben morire, è stolto non solo per la dolcezza che c'è sempre nella vita, anche da vecchi, ma perché una sola è la meditazione di una vita bella e di una bella morte. Ancor peggio chi va dicendo, bello non essere mai nato, ma una volta nato, al più presto varcar la soglia della morte. Se è così convinto, perché non se ne va da questo mondo? Nessuno glielo vieta se è veramente il suo desiderio. Invece, se lo dice così per dire, fa meglio cambiare argomento. Ricordiamoci poi che il futuro non è del tutto nostro, ma neanche del tutto non nostro. Solo così possiamo non aspettarci che assolutamente saveri, né, allo stesso modo, disperare del contrario. Così pure, teniamo presente che per quanto riguarda i desideri, solo alcuni sono naturali, altri sono inutili. E fra i naturali, solo alcuni sono quelli proprio necessari, altri naturali soltanto. Ma fra i necessari, certi sono fondamentali per la felicità, altri per il benessere fisico, altri per la stessa vita. Una ferma conoscenza dei desideri fa ricondurre ogni scelta o rifiuto al benessere del corpo e alla perfetta serenità dell'animo, perché questo è il compito della vita felice. A questo noi indirizziamo ogni nostra azione, al fine di allontanarci dalla sofferenza e dall'ansia. Una volta raggiunto questo stato, ogni bufera interna cessa, perché il nostro organismo vitale non è più bisognoso di alcuna cosa, altro non deve cercare per il bene dell'animo e del corpo. Infatti proviamo bisogno del piacere quando soffriamo per la mancanza di esso. Quando invece non soffriamo, non ne abbiamo bisogno. Per questo noi riteniamo il piacere principio e fine della vita felice, perché lo abbiamo riconosciuto bene primo e a noi congenito. Adesso ci speriamo per ogni atto di scelta o di rifiuto e scegliamo ogni bene in base al sentimento del piacere e del dolore. È bene primario e naturale per noi, per questo non scegliamo ogni piacere. Talvolta conviene tralasciare alcuni da cui può venirci più male che bene e giudicare alcune sofferenze preferibili ai piaceri stessi. Se un piacere è più grande, possiamo provare dopo averle sopportate a lungo. Ogni piacere, dunque, è bene per sua intima natura, ma noi non li scegliamo tutti. Allo stesso modo, ogni dolore è male, ma non tutti sono sempre da fuggire. Bisogna giudicare gli uni e gli altri in base alla considerazione degli utili e dei danni. Certe volte sperimentiamo che il bene si rivela per noi un male, invece il male un bene. Consideriamo inoltre una gran cosa l'indipendenza dai bisogni non perché sempre ci si debba accontentare del poco, ma per godere anche di questo poco se ci capita di non avere molto, convinti come siamo che l'abbondanza si gode con più dolcezza se meno da essa dipendiamo. In fondo, ciò che serve veramente non è difficile a trovarsi. L'inutile è difficile. I sapori semplici danno lo stesso piacere dei più raffinati. L'acqua e un pezzo di pane fanno il piacere più pieno a chi ne manca. Saper vivere di poco non solo porta salute e ci fa privi d'apprensione verso i bisogni della vita, ma anche quando ad intervalli ci capita di menare un'esistenza ricca, ci fa apprezzare meglio questa condizione e ci rende indifferenti verso gli scherzi della sorte. Quando dunque diciamo che il bene è il piacere, non intendiamo il semplice piacere dei goderecci, come credono coloro che ignorano il nostro pensiero, o lo avversano o lo interpretano male, ma quanto aiuta il corpo a non soffrire e l'animo a essere sereno. Perché non sono di per sé stessi i banchetti, le feste, il godersi i fanciulli e donne, i buoni pesci e tutto quanto può offrire una ricca tavola che fanno la dolcezza della vita felice, ma il lucido esame delle cause di ogni scelta o rifiuto, al fine di respingere i falsi condizionamenti che sono, per l'animo, causa di immensa sofferenza. Di tutto questo, principio e bene supremo è l'intelligenza delle cose, perciò tale genere di intelligenza è anche più apprezzabile dalla stessa filosofia e madre di tutte le altre virtù. Essa ci aiuta a comprendere che non si dà vita felice senza che sia intelligente, bella e giusta. Né vita intelligente, bella e giusta, priva di felicità, perché le virtù sono connaturate alla felicità e da questa inseparabili. Chi suscita più ammirazione di colui che ha un'opinione corretta e reverente riguardo agli dei, nessun timore della morte, chi ha la conoscenza del senso della natura, che tutti i beni che realmente servono sono facilmente procacciabili, che i mali si affliggono duramente, affliggono per poco, altrimenti se lo fanno lungo vuol dire che si possono sopportare? Questo genere d'uomo sa anche che è vana opinione credere il fatto padrone di tutto, come fanno alcuni, perché le cose accadono o per necessità, o per libero arbitrio della fortuna, o per arbitrio nostro. La necessità è irresponsabile, la fortuna instabile, invece il nostro arbitrio è libero, per questo può meritarsi di asimo o lode. Piuttosto che essere schiavi del destino dei fisici, era meglio allora credere ai racconti degli dei, che almeno offrono la speranza di placarli con preghiere, invece dell'atroce e inflessibile necessità. La fortuna per il saggio non è una divinità come per la massa, la divinità non fa nulla a caso, e neppure qualcosa priva di consistenza. Non crede che essa dia agli uomini alcun bene o male determinante per la vita felice, ma sa che può offrirla avvio a grandi beni o mali. Però è meglio essere senza fortuna ma saggi che fortunati e stolti, e nella pratica è preferibile che un bel progetto non vada in porto, piuttosto che abbia successo un progetto dissennato. Medita giorno e notte tutte queste cose, altre con genere, con te stesso e con chi ti è simile, e mai sarai predo dell'ansia. Vivrai invece come un dio fra gli uomini, non sembra più nemmeno mortale, l'uomo che vive fra beni immortali. Grazie per la visione!